ma no che pizza riaccendo e guarda qual è la sfida giornaliera 10 ci sono usando i veicoli ma abbiamo appena giocato a squadra di caccia però ragazzi dobbiamo fare dobbiamo fare ci baseremo un po magari sulle torrette sui robotini e poi dobbiamo prenderci i punti della giornaliera assolutamente perché il nostro rotto 100 continua però prima di andare in partita vi faccio vedere che mi sono fatto il set dato che scout non lo uso praticamente più ho messo cecchino perché mi avete scritto che appunto questa carta dà un aumento dei danni quando miri è proprio il contrario dell'essenza di battlefront quindi perché no andiamo a provare io direi iniziamo con la 280c naturalmente ragazzi prima partita dopo un paio di giorni quindi io vado ecco tutte le volte della missione wr mi butta fuori madonna andiamo a cercare un droidino guarda che lì che mi aspetta quadrato proprio c'è la faccia quadrata dj ciolo lo conosco lo conosco ragazzi ah ok anche una mappa ottima per provare cecchino vediamo bisogna vedere se a livello 1 già ci sarà un buon implemento dei danni ho messo la 280c perché ci manca un colpo alla testa per fare la sfida quindi poi anche mirando magari cerchiamo di portarcela a casa così andiamo su di livello vediamo dai riprendiamo il nostro 800 mamma mia ragazzi ma fare fare degli stop non è cosa buona comunque alla fine ben giocato domenica oggi martedì siamo a un giorno da rogue one però a dire la verità ci sarebbe già l'opportunità di vederlo stasera a mezzanotte ok cecchino dai proviamo no stiamo perdendo naturalmente amare il dito quindi io qui però devo ricordarmi di mirare perché se no se no non fa danno mi stai dicendo va bene l'imperatore sarà soddisfatto i droidi vanno difesi a ogni costo oddio ce l'ho dietro guarda che si incastra sul costo chi ho santo si incastra sulle rocce se mi faceva rotolo qua la portavamo a casa porca puttana come mi fa incazzare guarda come mi fa incazzare ma qualcuno della nostra prendeci no non ci credo la squadra di tardone come al solito eh ma se muori magari assistenza va bene comunque si cazzo il danno ma sembra esserci ne... eccolo qua ma donna santa ma questi qui c'è rinascono rinascono insieme uno accanto all'altro ma avete rotto un po' i coglioni sai comunque non è il mio modo di mirare su battle un po' cosa fare colpa la testa perfetto ci prendiamo i punti guarda come si carica la svelta il cecchino incredibile aspetta dai 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 fatti vedere eh volevi sì sai che effettivamente effettivamente fa un bel danno prendiamo subito i droidi generatore di masto porca puttana e siamo a livello 1 e basta no vabbè sei un figlio di puttana tu eh sì ti piacerebbe ti piacerebbe porca troia il danno c'è sì sì il danno c'è mi avete consigliato bene non è proprio il mio stile su battlefront anche perché comunque ti porta a dover giocare di distanza molto che cazzo è ma muori però effettivamente niente male diciamo a prendere un cazzo di droide lo usiamo da scudo livello 2 cazzo vai giù che c'è la mia mina vai giù che c'è la mia mina vai giù che c'è la mia mina ok riprendiamo no sono respawnati qua adesso guarda che respawni merda eh ma ammazza eh li fa respawnare qui perché perché è un bel gioco ci sono io cazzo ci sono io e me li fa respawnare in bocca porca puttana guarda che nervoso il fatto di aver mirare comunque non sei così veloce come sparare distinto però no devo dire che è un buon perk cazzo soprattutto per chi magari non è abituato a giocare senza mirare vabbè cioè se non l'ha mai giocato a battlefront dal day one no ti metto lo scudo porca puttana era meglio che continuassi a andare avanti volevo tornare nello scudo per ripararmi vabbè dai che facciamo il comeback dai 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 che facciamo il comeback i livelli non devono toccarli no siamo tornati a livello 1 cristo eeeh vacca puttana tu che giochi ancora col barraising veramente madonna che vita indegna hanno preso un droide strappati ma basta gli scudi ma dammi un perk come dio comanda guarda che cazzo di merda quell'uomo qua ma muori imbecille campera sui cacce però guarda quell'altro guarda che deficiente madonna aiuto tristezza vai sonda dammi una mano vediamo se arriva qualcuno da distanza eccolo qua madonna no non è non è proprio due di vita dai figlio non è proprio il mio il mio stile per ammirare in questo gioco fatti vedere porca vacca però un po' cazzo è potente vedo che c'ho anche erastica qua gente muore non ci provo io dai 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 ok vai ma non tutti da uno cristo dai dividetevi madonna ho preso uno arrivo a sinistra faccio ancora il mio scudo ma basta scudi no doppio fanculo samson è la tua valigia da viaggio cazzo li potevo provarci oltre per mirare volevi volevi rinascere in libertà invece devi morire non farmeli sponare qua però è il cazzo guarda dove mi fa sponare dai 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 abbiamo preso tutti guarda se facciamo il comeback che vinciamo siete poveri senza si senza gioia porca puttana vieni qua vieni qua vieni qua uguale ciao te e il t 21 maestro dei cecchini fammene fare una senza raffiche per vedere com'è porca troia vabbè quello lì esploso per cazzo i suoi merda dai che recupero madonna che bella partita che salta fuori che bellezza ragazzi bellezza dei droidi è questo guarda è però figa però figa ci vuole anche raffica diciamo per aiutare ok che era un po lontano però 94 a posto a posto benissimo e non è male sai non è male siamo morti un po di volte da stronzi 0 12 c'è fatto 0 12 dj ciò l'è uscito non c'era in partita c'è veramente quello ha fatto 0 12 va bene va bene comunque ottimo comeback è veramente cecchino non me l'aspettavo e guarda a fare le sfide ragazzi per salire velocemente il livello dovete fare le sfide c'è poco da fare guarda entrato che era già cominciata ha preso quanti due tre droidi un po di uccisioni ok però ho fatto la sfida e 12 mila punti posto ci avete sto feticismo per il pistolino di grido ma ragazzi ve l'ho detto io che potentissima avevo fatto il video apposta che c'è che era una pistola paurosa partita iniziate dai rimango qua rimango qua perché non resisto dai facciamo un episodio max dai facciamo un'altra cosa dopo ma però metto verso dai proviamo 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 con la pistola di grido il problema della pistola di grido è che c'è una cadenza di fuoco un po bassa lancia la gara e lo sapevo che arrivano e vabbè ti sarebbe piaciuto via 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 cazzo via 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 che arrivano dappertutto ma porca puttana ma porca puttana come dormo ancora come faccio a morire così come faccio che non ci gioco io santo e dormo dormo in piedi porca puttana vieni no va bene e vacca troia puttana e che rabbia e mi sta venendo il nervoso mamma mia mi viene il nervoso e ha preso tutti i campi si ha preso tutti i campi ha preso tutti i droidi madonna c'è il nervoso c'è qualcuno che sta caricando sentito tutto il ruolo ha fatto muori pablito di merda faccia di merda vieni di qua adesso muore bello grazie no dai doveva essere doppia quella lì ma porca puttana i tiraggi figa che due palle che due maroni ti fai vedere niente poi non prendono un droide niente spablito fermo qui da inizio partita ma ha ucciso 40 volte benissimo benissimo bella 4-4 beh questa è stata stupenda questa è stata veramente stupenda non hanno preso un droide no questa non vale ragazzi no questa qua non valeva mica come partita durata due secondi dai là non starei mica scherzando no no questa qua non vale mica entriamo qui perché ci deve essere la vendetta adesso la vendetta assurda col pistolino di grido dai guarda questo guarda questo guarda che skin che problemi che devi avere sei vestito come me mi infastidisce questa cosa c'è la faccia come il culo no così a random eh prima uccisione eh volevi non li vedo scusami eh non t'ho visto vaffanculo cioè ci siamo avanzati insieme incredibile incredibile il problema di di quelle pistolette qua che da vicino da vicino non non è che valgano tanto la pena che purtroppo hanno soprattutto sei scemo ha pablito godo mori stronzo perché hanno un ratio di fuoco troppo basso invece la quella che vi ho fatto vedere l'altra volta puoi spammare il problema si che non ha ma che cazzo spari a me rimbambito il problema si che senza raffica è veramente diventata un po' sfigata diciamolo oppala mamma mia se ti scaldi no non ci provare sai ho detto di no aiuto eh pablito sei fermo madonna pablito fai veramente cagare cazzo sei l'uomo più fermo dell'Europa pablito dove stai mamma mia che danno mamma mia fa veramente tanto danno anche da distanza pistolino di grido e pablito ma l'ha già provato pablito a muoversi con la leva di sinistra ma non ne valsa la pena bravi oh che bravi occhio dietro guardalo è pablito è pablito no no dai no dai hit marker marker con lanciaraggi veramente quel gioco qui ma muori e si mette davanti dio santo sei morto guardalo ancora madonna pablito quanto mi rompi no adesso se lo vado a prendere ma veramente ha rotto ecco bravo vieni di qua passa passa non ci credo non ci credo con sto fake con lo scattergun non ci posso credere che madonna da pablito e poi dopo una guerra millenaria no dai figa pablito di merda dio santo guarda questo guarda questo da dove cazzo arrivi con la dt29 ma chi no ma non c'è lag non c'è mica lag no no ma ha ucciso a me e poi è morto lui nove ma funzionano bene ormai è la connessione che deve essersi comunque mi ha rotto un po' il cazzo questa pistola adesso la cambio perché forte devi stare a a due chilometri di distanza guarda che palle che palle ste armi che shot avevo anche la batca ma andateve un affanculo andateve un affanculo gioco stuprato dalla vita DL dice no anche no anche no avete rotto i coglioni sai guarda quelli fermo com'è mare in mano aspetta eh dimitri in pista guarda dovrà che pizzica pablito è sempre pablito madonna la vendetta no no devo andare a prendere pablito io porca puttana guarda sta arrivando chi c'è lassù ma davvero ancora ti metti lassù cadi 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 buttati giù eh stravolta pablito devi andare affanculo veramente tantissimo figa guarda che guarda che che ritardato guarda che ritardato che può essere quello stronzo sopra il carro armato quanto può essere ritardato dio santo questa gente davvero madonna l'implosione nei denti gli tiri bravo è anche funzionata come cosa un po' drastica ma vai affanculo pablito là c'è uno che vola io vado a prendere il droide però porca vacca siga pablo mi tira proprio il culo che che mi hai ammazzato guarda assoluto il controllo dei droide che buon pallo questi spawn va bene dove spari tu non so sono questo sono così me l'hai messa quella mina lì fablito muore che fai cagare no beh dai ti sposti dal cazzo figa non si sposta non si sposta e poi ne approfitta smurf cal guarda oddio ma sono tutti no no è il mio compagno è pablito 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 il mio compagno sta lì in mezzo li attira come come una merda per le mosche veramente ecco arriva di qua dai volevi nonna erano proprio tutti concentrati su quel droide lì eh porca puttana mi è arrivata una sventola e vacca croia perché mi hai shottato con l'ADL ma perché perché devo bestemmiare no beh ragazzi non ho parole non ho parole giuro giuro che non ho parole non ho parole e vacca troia pablito che aspetta dietro gli angoli dio santo non l'ho visto l'avete visto correre voi in due partite non ha corso una volta una volta non ha corso io santo guarda come mi cazzo questo qua gioca eh bravo bravo grande un genio un vero genio guarda lui è sempre fermo pablito sempre fermo dietro 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 come faceva essermi dietro no prendetene uno che schifo madonna prendilo prendilo che partita di merda però ragazzi io voglio pablito me ne frega il cazzo che te steli in ginocchioni a fare i pompini alla gente tanto perdete basta via cioè ma puoi rinascere oddio oddio c'ho paura di vedere il risultato mamma mia 23 15 guarda che squadra 5 12 10 20 vai non ho parole andiamo via da qui anche perché non abbiamo trovato un perk che venga venga denominato veicolo quindi madonna che nervoso la gente che sta ferma e che rinasce dietro io dio santo pablito pablito madonna oh bella quella del del castello non mi ricordo non ci giocavo più dai facciamo le le uccisioni con i veicoli poi direi che possiamo anche andarcene alla fine non è che siamo obbligati a stare in partita e finirla vediamo vediamo prima di tutto se non è già cominciata madonna pablito oddio pablito pablito non sono proprio abituato io alle persone ferme io sono abituato alla gente che si muove madonna mi mandano in confusione pablito porca troia ok dai è bella questa mi piace gregario cos'è si caproia il gregario di dart raider cominciamo subito pezzo di merda eh si però mi devi anche lasciare un po' stare questa puttana uh dai ci serve l'energia troppo lontana cribbio rosso 2 sconfitto godo così non mi sta sulle palle a me dov'è qua arrivo eh torno a giocare un attimo che mi ricarico eh madonna ma quanto quanto gliene serve di energia questa ecco me l'ha infilata mantenere la superiorità di poco però devo uccidere persone vere mica fantocci altrimenti non funziona la sfida ma ero su cinque eh si è durissimo ma via 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 scappa scappa verso l'energia mamma mia se si ricarica veloce il gregario gregario top però se ci fosse anche un nemico no questo porca puttana non riesco a muovermi con sti perk di merda quanto lo odio eh vaffanculo vai vai vaffanculo ancora gregario me la date si fortuna che c'è il castello sto rompendo i coglione niente niente tutti dietro rosso 3 e rosso culo e rosso zio avete rotto che coglione eh niente dai 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 gregario vabbè ti continuo a prendere anche quando hai il turbo mi piacerebbe capire il perché mi piacerebbe veramente capire il perché che due palle Cristo santo no purtroppo squadroni caccia il problema sono questi qua lo sapevo hanno migliorato il discorso perk comunque nessuno prende la navetta sono tutti dei pezzi di merda e ok no stronzo il problema è che rimangono rimangono i rosso 5 e compagnia bella troppo potente adesso ho notato che si scalda ho notato ragazzi su no 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 ok porca puttana come sei piccolino aspetta dai aiutami eh grastoni di merda togli ancora rosso che cazzo no dai mi salverò con Bobas no rosso 5 strano strano lui vola lì tranquillino intoccabile ah che palle che palle se non ci fossero gli eroi i caccia eroici sarebbe guarda sarebbe finalmente bella e bilanciata questa modalità del pc no ragazzi se la piglia in culo ah niente si me l'avete detto anche quello che i razzi adesso sono una roba no figlio del culo muori eh se schianta guarda piuttosto che darmela se schiantata bombardiera aiutami via 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 serve un po' di energia ma dai 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 eh ma ero su 5 quello lì intoccabile è intoccabile ragazzi è intoccabile vaffanculo guarda eh cioè poi si cura veramente ma che schifo che schifo abbiamo fatto sta sfida di merda ne manca uno boh manca uno ce ne abbiamo davvero purtroppo no va a cagare dai 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 dio santo guarda se ti prendo purtroppo non mi ero sbagliato questi cazzo di eroi sono una merda assurda eh va bene il fatto che mi viene mi viene da pensare ma se usciamo vabbè dai è finita stiamo dentro vabbè non vorrei che mi inculasse la la sfida io che ti venga muori muori madonna schifoso non è possibile eh vabbè mi qua guarda soddisfazione di ah culo pesante pesante veramente dover convivere questi merdi ma questi qua sono tutti dei mongoli la gente vera dov'è adesso si è scaldato dai raffredda che madonna quanto ci metti che palle castello aiutami tu che culo che culo guarda sono proprio contento che è tornato ah mi stanno avanzando via 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 ah ci vuol tondo fino a eeeh mastordo rosso madonna eeeh vabbè un 8 di eeeh il gregario il gregario yeeeh si ma sono appena entrato attenzione cioè niente 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 sabero wolf ma oddio ti prego finisci finisci partita oh grazie 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 molto divertente molto bello molto bello molto bello eeeh sono sempre equilibratissimi i caccia i caccia eroici di di destra veramente veramente epici mamma mia che gusto allora vediamo come siamo messi eh siamo a metà 96 quasi direi che possiamo salutarci qui è stato un bella un bel episodio di merda e vabbè capita però ragazzi avete visto che sfida c'è non l'andrò a cambiare noi ci vediamo al prossimo appuntamento con road to livello 100 road to rank 100 perché non è livello vi saluto e vi ringrazio alla prossima